Continua a salire la curva dei contagi da coronavirus in Puglia. Anche oggi i numeri della pandemia, diramati dal bollettino epidemiologico regionale, si confermano altissimi. Nelle ultime 24 ore sono stati accertati 1983 nuovi casi a fronte di 11.296 tamponi effettuati, con un tasso di positività pari al 17,5% di circa tre punti superiore a quello della scorsa settimana. Dei contagi odierni 824 riguardano la sulla provincia di Bari, anche oggi la più colpita, seguita da Taranto con 371, Lecce 267, Foggia 263, 138 se ne contano invece nel territorio di Brindisi e 109 nella BAT, ai quali vanno aggiunti sette casi di residenti fuori regione e quattro di provincia non ancora accertata. Il totale dei contagi pugliesi da inizio pandemia sale così a 174.983. Alte anche le cifre relative alle vittime del covid con altri 26 morti registrati in un giorno, 11 nel Barese, 5 nel Tarantino, 4 nella BAT, 3 nella provincia di Brindisi, 2 in quella di Lecce e 1 nel Foggiano, che fanno salire il bilancio dei decessi in Puglia a quota 4.447. Il netto peggioramento del quadro epidemiologico è dimostrato anche dal deciso balzo in avanti degli attualmente positivi, casi totali, meno decessi e guariti, che sono in tutto 42.072, oltre 900 più di ieri. E ad aumentare purtroppo sono anche i pazienti covid che si trovano nelle strutture ospedaliere. I ricoveri salgono infatti a 1.877 più 33 rispetto all'ultimo bollettino, di cui 209 in terapia intensiva. L'unico dato confortante è come sempre quello relativo ai pazienti negativizzati. I guariti sono complessivamente 128.464. Più di mille pugliesi hanno sconfitto il coronavirus nelle ultime 24 ore.